Ciao, è la prima volta che venite al concorso Expressione? E questa è la prima volta. E da dove vieni? Where are you from? In England. Lucina a Londra. E come hai saputo del concorso? I do. Wow. And my teacher at the school is Georgia. Uno degli insegnanti, non si, non sono iscritta e siamo del Stinson Stage Academy e nel Stinson è nella giuria. Ah, ok. E dove studi, quindi? Il nome della scuola? Il Stinson Stage Academy. La Stinson Stage Academy di Londra. Certo. È un programma associato che facciamo una volta nel settimana. Perfetto. E ti è piaciuto partecipare? Come l'hai trovato? Yeah, it was pretty fun. It was a good performance experience. Ha detto che si è divertita molto. È stata una grande esperienza per poter fare una performance e vedere quanto c'è in giro, livello. E quindi è bello perciparare. È la prima volta che vieni in Italia? Questa è questa. È la prima volta che vieni in Italia. Italia. Pensi di tornare? Ci senti che vuoi andare. Ok, grazie mille. Se vuoi dire il tuo nome, che non l'abbiamo ancora detto. I'm Katie Donovan. Perfetto, ti ringrazio. Ciao.